Alzheimer. Negli ultimi decenni la scienza e la ricerca hanno fatto importanti passi avanti sia sul piano diagnostico che su quello delle possibili terapie e della sperimentazione farmacologica. Per divulgare novità e prospettive la casa editrice Mondonuovo ha organizzato a Chieti un convegno finalizzato a promuovere una maggiore conoscenza sui progressi scientifici che ruotano attorno a questa malattia dando voce a esperti del settore. Sentiamo la neuroscienziata di fama mondiale Antonella Santuccione. Abbiamo parlato della malattia di Alzheimer, delle possibili terapie, della prevenzione di questa patologia che in realtà abbiamo ascoltato può essere prevenuta nel suo esordio comunque rallentata nella progressione del 40 per cento tenendo sotto controllo 12 fattori di rischio nello specifico questo lo dice la Commissione Lancet che sono per l'appunto l'ipertensione arteriosa, il diabete, la partita dell'udito, la depressione, la mancanza appunto di contatti sociali ma ancora il sonno, il sonno è una cosa importantissima quindi l'igiene del sonno e abbiamo ascoltato che gli abruzzesi appunto sono lasciati soli nella gestione del paziente con la malattia di Alzheimer quindi è auspicabile che ci sia una volontà di tipo politico a rafforzare le strutture, l'aiuto sul territorio ma anche il supporto psicologico perché è stato detto chiaramente che la famiglia non può essere lasciata sola, che il caregiver non può essere lasciato solo e c'è bisogno della cura dell'esperto perché non si può delegare la cura di un paziente di Alzheimer ad una persona che non è stata educata a questo, perlomeno non si può delegare la cura nell'intero ad una persona che non ha ricevuto una formazione per fare questa cosa, per cui la figura dello psicologo, la figura di colui il quale guida questo tipo di cura è fondamentale. psicologo, la figura di colui il quale guida questo tipo di cura è fondamentale. psicologo, la figura di colui il quale guida questo tipo di cura è fondamentale.